Francesca Revisore Sono una chica, vengo a fare una gira per tutti i campi di fútbol di spagna e per tutti i casini futuri. Che previosa, sono contenta di essere qui nel caderno che mi ha invitato perché ho avuto un pallone in mia carreta, questo è un numero 8. E mi hanno cogiato da un lato e da un lato, che grazie a tutti. Venga, credo che non mi ha concentrato in lo che è? No, 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 no. No, 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 un po' di organizazione. Però david, dimostrato il sistema di tutti, non ci sono, in questo modo, no lo so perché ho portato il microfono, tutto un musico che nello che nello che nello? Un microfono sempre si venga da un fangolo. Perchè non mi ha disperto un lato, un lato bonita. Un lato un lato, questo è, questo è, questo è, questo è che le parezca il sordo di un lato di eccetera. Ora, per me è finito bene, un po' di bebe, un po' di bebe... ...e in questo non si oye per questa bella. Un po' di bebe... ...e questo, questo, questo... ...como la poma del sacro monte. Hola, oi! ...miri. ...bueno venga... ...el colo che è già! ...e questo! ...oio il colo! ...un colo personale, no? ...o se deve che io abbia stato con un colo di una persona... ...e che è stato un camaro... ...in caso che è stato un camaro... ho avuto un'escola a lì, per me chiedere da un'escola venga, buscate a qui, questa, questa, questa è la mia vita un'escola, un'escola, un'escola è questo, è questo è tutto il mondo è incentrato, mirando a mi lo stai mirando qui, è il centro del escenario è molto facile, il foco è molto forte e il micro è morto venga, allora, è questo è, hai che vedere la canzone di Ander, che bello che bello, che bello, che bello, che bello, che bello questo è un messaggio positivo, no? che bello, che bello hai la, hai che bello venga quindi non è passato bene e poi vedete che tutto lo miglioro vedi che tutto lo miglioro vieni 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 Championship per la conferenza nei pesoni widi BB . Pocavi Musica Il aborico Musica Querido maestro musicario de la OCG Espero che abbia terminato un determinato descanso Perché va a empezar a tocar la copla Y cuando ustedes quieran, sin mucha ninguna Vayan empezando a tocar la copla Esto, 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 esto La sesión de Milton lo ha podido venir hoy Esto lo que mi mujer No se que Esto lo que mi mujer Esto Que sea la ultima vez que le aplaudí al pianista La ultima Los aplausos ya sabemos a quienes están dirigidos este momento Para que le aplaudí mucho a ellos Este Venga Ahora sí Musica Mi aparito mejor que ninguna Si se trata de tomar café Catalina escucha mis penas Y me río Gonzalo Me río Gonzalo Me río De pronto a un modelo Y sus manos me vuelen a amar Casi Pues ¿ustedes puede comer? Que te chupen a ser ролita Si es que es como la gilanda Bonita toda Si Con esas cinturitas Que es como una sortija Un mosquito de gloria Bueno vale ya Ya está Alejandro Ya está Ya está Ya está Agelito Que se han mirado para wikipedia che io non è pilota però lo de la girema è stato molto bonito tu l'hai fatto con me, mia, animo, animo, animo ai, ai me puedo tirar de lo pelo o di un campanello in un verano se sabe perché sarà e sin poderlo rompere e è che pierdo la tassò se un perfume di clavè mi amor a tal corazò con un hombre e con il chien lo che non pido avanti lo di un pezzo di grecia per star a militare solo mi siente a biel no, marcia che tu vuoi non è meglio che un flamengo in King di quello di Cordova viva tua madre vieni, 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 vieni che ti comi' a fare come buesecini che ti comi' a fare come buesecini In quanto termine la duria, sigo con il numero. Lo che mi posso raccontare? Lo che Paolo di Andrei. Capitano militare! Basta! Esa estrofara blanqué. C'è lo parcao! Sì, sì, sì! Alla segreta! E' veni di menini! No interrompio oi! Non è invitarlo oi! Lo che mi haces sucumbir È mi José insolora a pie Suono del que yo aprendi Blue Can you somebody stand there? In love Is that a tree? Is that a tree? Is that a tree? Is that a tree? No she can't be an artist She can't be an artist She can't be an artist You need to send a girl A movie And she's young She's music Other countries Exportation This論ament And it's called Go Go Corre! Corre! La prossima volta vi a partire in tre miti In tre miti? In tre miti? In tre miti? No, no, no Entonces io lo copro, copro, del genio, no del Mississippi Lo que pasa es que io non sapevo encarar su hace tiempo Lo que pasa es que non riesco, non riesco, non riesco, non riesco Qu'è la mada lì? Ii. Ii. Iii. Eh, non là... ŚHÈH!! Ést o t hey! Alla prossima! Vale Es parte Deche il mio placer di questo titolo Usted lo designate qui Fue con el que yo aprendi Que la amarillo Esta è il placer Grazie